Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Sofia, ho 22 anni e sono di Gela. Ho frequentato qualche anno fa la Luigi Sturzo e grazie a questa scuola mi sono ritrovata subito nel meraviglioso mondo del lavoro, dove inizialmente mi ero indirizzata comunque verso il catering, quindi facevo la cameriera, ma andando avanti con il tempo e lavorando nel settore sempre della ristorazione mi sono avvicinata al bartending. Poi ho frequentato un'accademia per barman in Italia e attualmente mi trovo in Francia. Ho viaggiato per lo più in molte zone dell'America, quali per esempio New York e Bahamas, sono stata anche in varie parti d'Italia e Francia. Grazie all'alberghiero comunque ho fatto una scelta che mi ha portato sempre di più ad essere quello che volevo diventare nella vita, e quindi una bartender professionista, quindi vi auguro di fare la scelta più giusta e che vi porta comunque ad essere felici perché comunque io grazie all'alberghiero sono esattamente dove volevo essere.